Torniamo live da Fiera Cibus, la presenza internazionale è veramente molto folta a livello di buyers, siamo noi in diretta dalla buyers lounge, oggi ospiti con me due category manager di Magazine Du Nord, una famosa azienda della Danimarca, Jakob Nilsen alla mia sinistra e Casper Arwig alla mia destra. Jakob, benvenuti a Cibus, cosa pensi del ristartamento del Faire Cibus? Prima di tutto è bello essere tornati in Faires dopo due anni con il close down, è bello essere tornati a vedere tutti i nostri servizi qui, siamo contenti di iniziare a ristartare. Casper, cosa stai cercando qui? Quali importanti prodotti italiani nei vostri assortimenti, nei vostri strategie? Le prodotti italiani nei nostri assortimenti sono molto importanti perché abbiamo già abbiamo già trovato molti prodotti italiani, abbiamo già trovato pasta, meat e cose così ci sono molto importanti e stiamo cercando di nuovi servizi per ristartare il nostro assortimenti. Jakob, parlate di Magazine Du Nord in Denmark? Magasincki Du Nord is a department store. Abbiamo 7 department stores locati all over in Denmark. Abbiamo un store in Copenhagen. Abbiamo un food holder in the basement. Abbiamo circa 1,000 m2. E' un high-end food store, dove imporiamo molti nostri servizi. Abbiamo utilizzato molti importers locali. Abbiamo concentrato l'internazionale e anche anche le cose locali italiani. Casper, ha cambiato il consumatore durante questo periodo, durante il coronavirus? Sì, il cambiamento dei servizi, dei consumatori, è stato cambiato. Sono disposti a usare più di più di cose, di cose più delicate, di cose di cose che hanno ricevuto in un supermercato normale in Denmark. Quindi, possiamo dire che ci sono cambiato per dei consumatori, di società e cose così. Jacopo, dentro del fear, molte persone, molte manageri, sono parlano di aumentare dei materiali primi. Qual è il vostro approccio per questo termine? In realtà, siamo ok a pagare più per una migliore qualità. Perché, come Gasper ha detto, i consumatori sono disposti di usare più, anche perché siamo in un segmento alto, è importante per noi avere qualità invece di quantità. Quindi, è in realtà ok per noi spendere un po' di più di soldi per i soldi. Perfetto! Abbiamo ascoltato due manager di Magazine Du Nord, qui dalla Fiera Cibus, un saluto da Andrea Meneghini. Grazie! 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 Grazie!